grazie nonni caro signor presidente di tutti i nonni d'italia scrivo a lei affinché tutti i nonni sappiano non solo i miei nonni ma tutti tutti anche quelli che hanno i nipoti in lontani ormai grandi che siete grandi e per questo vi dico grazie per quello che sono oggi posso solo dirvi grazie nonni